ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay it oggi siamo su insurmountable un gioco davvero molto molto particolare lo trovate su steam e è uscito già da un pochino di tempo ha delle ottime recensioni sebbene le recensioni italiane non siano state troppo generose con questo titolo il suo prezzo non è altissimo costa 16 euro e 79 e devo ringraziare evil 2205 per avermelo regalato è una sorta di gioco di ruolo gioco da tavolo insomma noi siamo uno scalatore e dovremmo sopravvivere ci sono tre importanti vie da poter scegliere all'inizio e da lì ogni partita sarà completamente diversa dalla precedente e dovremmo decidere bene insomma le nostre prendere con una certa oculatezza le nostre decisioni il gioco non è in italiano non si esclude che magari un domani non possa essere andremo a valutarlo insieme lo proviamo già visto qualche video quella ma lo voglio parlare per la prima volta e abbiamo tre modalità c'è tre personaggi da scegliere abbiamo l'avventuriere l'avventuriero lo scienziato il giornalista ovviamente come si evince dalla professione sono equipaggiati in modo diverso e l'avventuriero l'avventuriero continua di sbagliato alla rigenerazione questi invece sono sbloccati dobbiamo andare avanti con lui giocando varie partite per sbloccare queste altre caratteristiche abbiamo la tenda abbiamo i guanti da arrampicata e abbiamo il cibo in scatola lo scienziato invece parte con questo il telescopio il telescopio il microscopio e ha degli effetti ci da un più quarto tempo prende un po di tempo per guadagnare esperienze in sintesi più altre cose lui parte con l'occhio d'aquila quindi ha la percentuale più alta di distanza coperta dalla telecamera di gioco la tenda il bastone da non so se da camminata dovrebbe essere da trekking un cappello caldo il giornalista invece dovrebbe essere quello così a occhio messo peggio con i guanti in pelo è un ascia da scalata stivali pesanti un tè caldo però vedete non parte col cibo e sete di conoscenza e la sua abilità più le altre da sbloccare quindi praticamente guadagna un po di energia a temperatura corporea ossigeno sanità e salute ogni volta che e lui sale di livello io inizio con l'avventuriero se hai notato in fondo alle profondità dell'oceano alla ricerca di un tesoro perduto hai cercato le culture estinte nelle più profonde foreste piovose e le le antiche rovine in deserti senza fine nessuna avventura troppo grande per te e no niente insomma ti ha creato problemi loro una nuova sfida ti attende una isola un'isola remota dietro un banco di nebbia una montagna che non dove non ci sono ricorda e picchi che sembrano diciamo delle torri che vanno verso il paradiso va bene iniziamo qua come vedete abbiamo le difficoltà le tre vie da scegliere allora vediamo un attimo che neomake it to the top vediamo un po sì abbiamo solo la difficoltà normale al momento quindi non abbiamo molta scelta se non se non questa la po la scelta non può essere cambiata per questo questa partita ok qui ci sono le famose tre vie che vi dicevo all'inizio la montagna 1 montagna 2 montagna 3 alcune abilità si sbloccano appunto arrivando a montagna 2 montagna 3 quindi insomma questo è scala la prima la prima sommità ma ricorda che non avrai dominato fatto del tuo meglio sulla montagna fino a quando non sarai tornato indietro sano e salvo al campo base fino allora la montagna ti possiede insomma ti 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 sta fregando insomma è in vantaggio su di te ti sta soverchiando ok altre vie da scegliere route 1 route 2 route 3 allora la route 1 ha ghiaccio stabile ma delle tempeste e la 2 ha ghiaccio stabile ma ombre e rumori che ti seguono sulla via quindi possono minare la nostra sanità e la route 3 sempre ghiaccio stabile e terreno molto sfidante insomma challenging io faccio la route 3 direi di sì va bene appena stai al campo base guardando alla sommità il tuo senso di avventura ti attende l'isola è avvolta dal mistero perché non ho trovato una mappa in tutti questi anni e le dicerie riguardo a gruppi disconosciuti che la occupano è vera e chi sono le persone che vivono lì va bene dai andiamo avanti tieni il tasto centrale del mouse e muovi per ruotare clicca col tasto sinistro per validare diciamo un marker clicca col destro per rimuovere il marker ci sono parti di terreno di pietra ci sono dei pericoli che possono succedere infatti questa è liscia queste invece ci sono dei pericoli questi sono terreni nevosi questi altri che aumentano questo è imprevedibile e sarà un casino distinguerli danger eh sì sarà veramente difficile ci sono vari tipi di eventi che possono capitare in montagna se fai un passo su un evento sia un po come un gioco da tavolo la vita l'energia la sanità e l'ossigeno queste poi la temperatura corporea e l'esperienza questi sono i nostri parametri vitali quando inizi quando una stat raggiunge lo zero il tuo stato è critico puoi vedere il percorso quando puoi vedere nel percorso la preview di quando tu raggiungerai uno stato critico quindi ci segnerà il percorso a un certo punto ci segnerà che da lì diventeremo in stato critico se tu continui a scalare in queste condizioni ti troverai di fronte ai eventi critici fai attenzione se la tua salute raggiunge lo zero è finita quando la tua esperienza raggiunge una certa soglia puoi livellare puoi scegliere da multiple skill a ogni level up la finestra delle skill ti fa vedere tra cosa le puoi scegliere tempo normale temperatura del corpo che scende e qua invece vento quindi ci richiede più energia per scalare gli eventi ti fa scegliere e che cosa fare e qua c'è c'è la possibilità di far riprendere ristoro con ok puoi aprire il tutorial e prende F1 ok qui siamo noi e dobbiamo raggiungere la vetta che l'ha in cima che è spettacolo sembra un death standing da tavolo quindi praticamente noi possiamo ruotare però non abbiamo modo di muovere la mappa scusate ma ho cliccato per sbaglio diamo un'occhiata anche ai tasti questa è l'altitudine questo è c'è un tempo normale domani però c'è tempesta qua dicono qua si può dormire è la finestra che è uscita prima la durabilità della tenda perché questa si rovina e il tempo per la dormita poi abbiamo qua l'inventario con la tenda e il nostro equipaggiamento e qua abbiamo i parametri allora intanto iniziamo e non possiamo mannaggia girare la visuale cioè questa è la cerchiamo di raggiungere un punto lì gli clicco e cammina il nostro porter bridge ok non si può ruotare la visuale nella maniera più assoluta quindi no dobbiamo no 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 ho sbagliato bene intanto no nulla con il tasto adesso si annulla possiamo raggiungere qui dai andiamo non mi fai fare quel percorso lì scusa mi annullo eh no lì non si può andare mannaggia quindi dobbiamo fare il giro questa mi sembra un po' pericolosa come via quindi direi che glielo faccio fare da qui ok dai vai confermo al momento stiamo andando bene vedete il tempo che passa man mano si va avanti per me è una genialata questo gioco cioè studiato in questo modo dai qua facciamo una scalata vai speriamo non succeda nulla non so cosa sia quell'economo credo sia un evento ok il tesoro dell'orso un forte e inusuale russare proviene da una caverna con cautela penetri all'interno nel pavimento c'è un grosso orso bruno che sta dormendo in modo pacifico tranquillo apri gli occhi non c'è dubbio su questo tutti la spazzatura sì allora c'è una tenda e dell'equipaggiamento dietro l'orso posso tentare perdendo un po' di sanità o continuare no 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 io lo voglio fare ce l'hai fatta sei sono preso con te stesso hai lasciato la caverna viva hai preso puoi continuare il tuo viaggio quindi abbiamo aumentato nuovamente la nostra salute abbiamo una tenda in più abbiamo fatto esperienza quindi tecnicamente adesso abbiamo due tende va bene pensavo di recuperare del cibo ma va bene adesso dovremo raggiungere l'altra cima e lì c'è un tesoro però io farei un giro e andare vedete che di là è uno spreco comunque di energie potrei tentare di arrivare qua a prendere il tesoro quindi io faccio una cosa di questo tipo così così poi scaliamo andiamo di qua no non si può andare di lì quindi scaliamo giù torniamo su di là andiamo lì andiamo lì iniziamo con questo poi livelliamo scusate che ho aperto vai vediamo se capita qualcosa spero di no perché vorrei anche livellare la grafica ricorda molto anche quella di Endless Legend con questa cosa diciamo fatti così a Isagoni è uno strategico molto bello che hanno tradotto e mannaggia la pupazza non si può scalare dobbiamo salire dall'altra parte si potrebbe già addirittura tentare di scalare lì abbiamo perso energia vediamo un attimo se annullo vedete che mi fa perdere un botto di energia lo scalare qua così voglio fare il level up prima possiamo scegliere un'abilità una specializzazione specializzato in terreno quando soffri su del terreno pericoloso guadagni esperienza aquila della notte guffo della notte guadagni più esperienza negli eventi di notte night climbing no mi serve di giorno il climbing ah specializzato a muoversi sul terreno piatto no io faccio questo terreni pericolosi ok abbiamo preso questo ok non abbiamo abilità non abbiamo oggetti da usare facciamo questa scalata qui dovremmo farcela perché comunque l'energia ci scende parecchio però abbiamo aggiunto il tesoro un basso edificio cattura la tua attenzione è bene integrata col paesaggio così che quasi tu non la notassi l'architettura è moderna e semplice cosa avranno lasciato dietro i misteriosi occupanti? mentre ti approccia all'entrata senti uno snarl dall'interno snarl mi sfugge cosa sia aspetto intorno e vediamo cosa succede trovi guardando dentro da una finestra una stanza rettangolare che è abbastanza grossa la struttura deve essere stata costruita all'interno della montagna infatti è sorprendentemente grande dice ma perché parla così senti un altro snarl come un ombro un animale si darza sono le frecce però schizza velocemente una pantera credo sia una pantera una iena insomma ti fa fuggire ok siamo fuggiti quindi praticamente abbiamo da un'altra esperienza ma fortunatamente siamo usciti e non ci siamo fatti niente cacchio è lunga la montagna la scalata lì è veramente immensa il problema è che non abbiamo più risorse quindi adesso non possiamo più allora facciamo così vediamo andiamo di qua di qua di qua e poi di qua e così ci spariamo un altro evento dopo di là vai speriamo non succeda nulla di importante che si sopravviva almeno ogni partita è una one shot quindi si però qua è finito cioè c'è un evento ma entra in una caverna è asciutta e riparata dal vento sul retro della caverna noti un una scintilla segui la luce segui la luce e appena arrivi realizzi che arriva da centinaia di fireflies cosa fa? farfalle lucciole ok torno la caverna all'entrata dalla caverna guadagniamo altra esperienza i lay down e sleep dai voglio dormire posso dormire sleep long o sleep eh ma poi mi troverai di notte però no non è ancora il caso di dormire perché è ancora giorno quindi adesso non ho sì siamo quasi sono le quindici quindi non dovrebbe essere un problema andare avanti ancora per qualche ora allora intanto vorrei arrivare di là quindi iniziamo a fare magari un percorso fin qui e poi andiamo di là fino lì e fino lì dai vediamo se ce la fa senza problemi ma dovrebbe essere tranquillo bella questa cosa comunque la scalata che va sempre più sempre più in alto è veramente immensa questa montagna e bisogna trovare la via è una sorta di dead standing a turni poi qui 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 e qui vai poi qua sopra non so cosa faremo perché non si può andare su dobbiamo ritornare giù però intanto si sono fatte le 18.40 abbiamo viaggiato altre 3 ore siamo arrivati a questo santuario che tipo di sito religioso o santuario potrebbe essere non sei una persona particolarmente spirituale ma qualcosa di questo posto ti sembra sacro potrebbe essere la tua immaginazione ma tu preghi per la salute o l'energia ah preghiamo per l'energia certo beh dove se no non si può andare da nessuna parte quindi livelliamo di nuovo possiamo guadagni ossigeno quando ti muovi sulla neve guadagni sanità ok questo è acclimatato quindi praticamente ti senti più a tuo agio quando c'è un meteo freddo allora iniziamo a fare un viaggio abbastanza serio in alto così arriviamo da questa parte di qua ah si dobbiamo far così iniziamo ad andare lì là dai e poi vediamo vediamo cosa succede dopo intanto è diventata è calata la notte non capisco perché ah si sta calando anche la temperatura corporea vedete che qua scende l'energia ok continua non vedo magari apriamo l'inventario appena arriviamo perché voglio dare un'occhiata effettivamente qua li abbiamo fatto fare uno sforzo per niente perché poteva passare da qui a qui inziché fare il giro da lì ogni tanto veramente non mi vengono le parole stavo a dire facere ma non lo so non lo so sarà in sto periodo che ho un po' di pensieri per la testa comunque ci dà più energia e più ah il mangiare ok non c'è una vera necessità fisiologica di mangiare ma lì c'è un altro santuario cacchio allora se io volessi andare là mi fa fare sto giro qui beh direi che ci andiamo no dai ah intanto qua non succede niente siamo tranquilli siamo non siamo neanche saliti di tanto perché siamo partiti poi lì quindi il primo giorno sta andando un po' così il nostro amico sta il problema sarà il giorno dopo quando prevedono che arrivi la la tempesta adesso vorrei andare questo santuario nuovamente ce la facciamo ad arrivare là sì direi di sì proviamo tanto questa mi sa che la dava come parete pericolosa però no forse eh sarebbe da distinguere ma non non ci capivo nulla ok a jingling che non so cosa sia senti un suono sono tipo delle campanelline appese tubi di metallo sia appesi insieme che cosa vuoi ho perso un po' di sanità quindi recupero la sanità perfetto abbiamo usato il santuario saliamo lì magari poi andiamo giù per la notte che stiamo finendo anche l'energia quindi magari ci mettiamo un pochino a dormire però già dovrebbe arrivare la tempesta e tra l'altro io ho paura che qui sia una ok dai andiamo fin su lì sempre che tutto vada bene è che perché bisognerebbe vedere qua possiamo stoppare subito lui e quindi dirgli di non proseguire ma lì c'è qualcosa eh no qua c'è vedete che c'è un punto esclamativo che non so cosa sia e quando poi diventiamo rossi vedete l'ultimo pezzo è rosso perché siamo critici quindi direi di assolutamente evitare e dormiamo stiamo qua e dormiamo nella tenda slip long eh sì dobbiamo fare slippare ok e infatti c'è un tempo da schifo e non si vede più niente però la nostra energia si è lievemente rialzata quindi andiamo e proviamo vedete che qua mi esce il punto esclamativo la rischiamo subito e vediamo che cosa succede ma sembra andrà tutto bene per quanto lo sapevamo benissimo che il giorno dopo sarebbe stata tempesta e ci sarà tempesta anche domani quindi qua è tosta davvero comunque intanto arriviamo in questa zona se ci arriviamo vivi e vediamo che cos'è abbiamo consumato tutta l'energia avremo bisogno anche di mangiare qualcosa hai scoperto una tenda intatta non c'è nessuno in vista ma il fuoco sta è ancora abbastanza si vedono ancora le luci del fuoco il campo è stato usato ovviamente da qualcuno cerco il campo perdo la sanità però la tenda con un simbolo inusuale cattura il tuo occhio abbiamo preso climbing gloves perfetto e me li metto no me li metto perché ce li ho qui 10 di energy ok no abbiamo un doppione ma va bene perfetto adesso bisogna capire dove bisogna andare mi piacerebbe andare su lì o giù lì ma giù lì ci si va abbastanza tranquillamente e su lì invece no da lì iniziamo per la sanità mentale perché andiamo giù lì perché lì dovremmo fare una scalata di quelle pazzesche e non ce la facciamo quindi a sto punto qua vediamo nella caverna di riposare e poi fare la scalata il giorno dopo entri in una caverna è asciutta tuttavia noti uno strano un forte odore segui l'odore segui l'odore ok trovi dei residui di pelo e ossa ritorno alla caverna abbiamo fatto esperienza dormo all'interno guadagniamo temperatura corporea dormiamo si fa veramente molto brutto qua perché è notte e quindi avremo recuperato un po' di energia ma la cosa non ci basta quindi io mi prendo anche questo tecnicamente vorrei mangiarla si può si uso quanto abbiamo caricato adesso perfetto è buio non si vede una cefola però se clicco qui lui mi fa la scalata però arriva fin lì niente fai così arriva qua in cima poi ne riparliamo vediamo intanto come va la mega scalata di questo poveraccio che ha consumato praticamente tutta l'energia solo per fare quel pezzo lì pensate un po' è stata veramente stancante al massimo riesce ad arrivare lì sì tecnicamente sì ci proviamo non dovrebbe essere troppo lunga la sto provando un po' così qua mi puzza perché mi sa di pericoloso perché qua c'è il ghiaccio però noi dovremmo avere tutto quello che serve per fronteggiare il ghiaccio qua ci sono dei detriti dobbiamo fare il giro attenzione sul terreno trovi due scalatori morti sembrano che non sono qui da molto riconosci i simboli sui loro vestiti è lo stesso della tenda che tu hai visto plunder saccheggiato insomma perdo sanità guadagno esperienza non è il momento di mollare vai avanti bisogna sopravvivere intanto è diventato giorno quindi c'è un un fuoco attivo non un anime intorno le fiamme sembrano illuminare il ghiaccio ok recupero voglio recuperare sanità energia energia assolutamente e andiamo a vedere anche l'altro adesso sta andando un po' per le lunghe la cosa però se sono molto bravo che ci posso fare qua è tutto ghiacciato mi fa tutto molta paura ma non so ancora distinguere dalle montagne mi sembrano pericolose magari non lo so c'è una capra di pietra un monumento di una capra guadagniamo esperienza guadagniamo anche sanità mentale quindi l'abbiamo recuperata adesso vediamo dove andare torniamo su no non lì ma là si possono eliminare tutti i vecchi sai non ho non ho proprio idea di dove dove si debba andare adesso perché la scalata prosegue di là ma siamo sempre più in alto abbiamo 4800 metri proviamo ad andare lì vediamo di quanto sale perché adesso scendiamo e siamo a 800 4800 abbiamo fatto 100 metri mentre tu scali in un piatto perdi il piede e scivolando giù dopo ci chiede energia per poterci aggrappare qua non ce la facciamo quindi mi lascio scivolare nel crepaccio perdiamo 3 ore 9 e 18 di temperatura corporea e siamo infreddoliti continuiamo questa è una di quelle sventure che capitano e a sto punto io onestamente non so dove andare andiamo lì però abbiamo bisogno di dormire quindi dormiamo sleep long e ci andiamo di notte che vi devo dire non abbiamo più neanche cibo da mangiare la tenda è usurata ma ne abbiamo anche un'altra nel caso in cui si dovesse rompere comunque andiamo di là sperando di trovare anzi vedete clicco qui lo fermo posso dire di andare qua no fermo ti fermo ti fermo vabbè è andato lì c'è la caverna qua guardiamo poi questa sotto una mi sfuggono tanti termini qua c'è una donna sotto una pietra insomma che si siede con un piccolo fuoco scalda le sue mani la sua faccia è dipinta con delle decorazioni artistiche linee cerchi ci fa un regalo ci dà questo ci dà più sanità e più salute grazie mille è una mistica insomma un'altra abilità da scegliere questo che mi toglie la perdita di sanità negli eventi andiamo alla caverna non mi farai mica fare fermo lì vai lì non ho più intenzione di andare di là adesso entro in una caverna c'è un questo si ripete c'è uno strano odore niente qua non c'è nulla possiamo dormire dormo briefly no dai recuperiamo energia perché ne abbiamo assolutamente bisogno quindi siamo praticamente adesso arrivati a una buona ora del giorno e andiamo in questa zona qua scaliamo questa e andiamo di là che c'è l'avento scopri una maschera di ossigeno in fondo un carpaccio ci provo uso ossigeno che è questo che non l'abbiamo usato finora per provare a recuperare rimani bloccato insomma respiro difficoltoso continuo a provare praticamente diventa sempre più duro lo respiro mi sono sempre più bloccato non ho molto modo di manovrare di muovermi posso tornare indietro no io continuo a provare voglio recuperare quella maschera ce l'ho fatta ce l'ho fatta e ho preso una maschera di ossigeno non può essere ok ho preso anche questa che mettiamo qua ci dà più ossigeno mentre ci muoviamo ed è una figata perché salendo sempre di più l'ossigeno inizierà a diventare una risorsa vitale per poter proseguire adesso l'ossigeno non scende o scende comunque poco ma salendo di quota l'ossigeno diventa più raro da trovare nell'aria e quindi diventa più difficile sopravvivere e in quel caso è un altro evento che oltre alla stanchezza alla temperatura che anche quella scenderà sempre più rapidamente trovo una bottiglia di ossigeno voglio andare a recuperarla qua mi sta andando male e continuo a provare e ce l'ho fatta alla fine ok prendo anche il bombolon di ossigeno perfetto che mi sarà utilissimo però intanto io sono un freddo litro da paura vediamo dai adesso arriviamo in quest'ultimo punto vediamo come ci come lo raggiungiamo il gioco sembra assolutamente interessante e abbastanza comprensibile ovvio adesso sono in video quindi non è che posso fermarmi lì a vedere tradurre al volo tutto però non è male al suo perché che poi alla lunga possa diventare ripetitivo assolutamente ho trovato delle cose delle erbe ho preso prendo anche delle erbe lo zaino è già praticamente mezzo pieno con due tende andiamo lì al santuario ripristiniamo un po' magari la temperatura ma non credo perché credo sia l'energia un saluto però vediamo vediamo tanto qua non partono i venti ci siamo messi in un ginepraio sanità e calore io prendo il calore perché il calore ci serve vedete qua la scalata diventa molto difficoltosa ed è il raggiungere questi edifici che ci dà la possibilità edifici eventi scusate che ci dà la possibilità di reperire altro equipaggiamento questo è un gioco sicuramente interessante per gli appassionati di roguelike a chi ama magari anche un pochino il discorso della rampicata io non sono un esperto non sono neanche un appassionato però l'idea di farmi tutta questa cosa l'ho apprezzata molto in death standing e l'ho apprezzo pure qui certo che vedere la vetta ora rispetto a dove eravamo prima siamo a 5000 metri eravamo partiti giù là mi pare quindi abbiamo fatto che è una buona strada l'avventura l'avventura diventerà sempre più complicata salendo quello che vorrei capire ora l'ultimo test si posso continuare quindi si continua fino a quando non si è morti definitivamente quindi l'avventura fallisce quindi non vincete la vetta e se si clicco lì mi dà tutto il percorso ideale questo è un po' un mezzo spoiler perché questa sarebbe la strada da fare però moriremo nel tragitto però può essere un buon modo per capire dove andare in che direzione andare però spesso è la curiosità che ci spinge o la necessità di ottenere degli oggetti che ci spinge magari a prendere deviazioni finora non era cliccabile la zona quindi non sapevo magari dove oppure possiamo annullare andare lì andare di là le vette sono molteplici non mi sembra troppo difficile fino a questo momento sicuramente abbiamo scelto anche un avventuriero che è ben equipaggiato però insomma il Sarmontable è questo fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti alla prossima ragazzi e ciao ciao e grazie ancora a Evil2205 ciao ciao